Parlando di imposizioni di decisioni che poi vanno a impattare la maggioranza della popolazione è questo uno dei motivi per cui siamo andati anche a contestare i G20 dell'economia e della finanza a Venezia e poi dell'ambiente a Napoli. Questa cosa si ritrova un po' anche nelle contestazioni che ci saranno della Pre-Cop comunque questa contrarietà a accettare decisioni prese dall'alto. Quindi appunto tornando a parlare di Milano e del Climate Camp, come si porterà in piazza questa contrarietà alle decisioni che vengono prese nei palazzi chiusi? Come diceva Aaron prima, io credo che ci sia un elemento che è fondamentale analizzare che è quello dell'imposizione, che è l'elemento del fatto che all'interno di queste problematiche all'interno della situazione in cui ci troviamo, prima discutevate appunto della situazione micro e della situazione macro e delle differenze che ci possono essere e le similitudini o comunque le correlazioni che ci sono. Una di queste è appunto come viene gestito il territorio come viene gestito il potere. Il fatto di avere una costruzione e un'organizzazione in cui la distanza tra coloro che subiscono gli effetti di decisioni e invece quelli in linea generale maschile che prendono queste decisioni è sempre più grande ed è sempre più volontariamente nascosta. C'è un termine economico che è quello di esternalità ed è il fatto come in ambito economico è l'elemento per cui tu hai delle perdite, quelle che potrebbero essere perdite, quelle che sono dei danni che tu crei, che tu esternalizzi, che tu non tieni dentro il computo di quelle che sono i tuoi benefici e le tue perdite. È qualcosa che ricade fuori dal calcolo. Questo è un meccanismo che viene utilizzato per esempio spesso in molte valutazioni rispetto a grandi opere, progetti che propongono lo sviluppo. L'esternalità di quello che non è direttamente possibile mettere a valore dentro un conteggio, dentro numeri di quanti euro, quanti dollari portano di guadagno. Tutta quella sfera che è la sfera della riproduzione sociale ma anche la sfera appunto del vivente viene esclusa da tutte queste riflessioni e da queste decisioni. Un processo decisionale che agisce in questa maniera dimostra chiaramente i suoi effetti. I suoi effetti sono quelli di estrarre profitto, di devastare, perché non tiene in considerazione quelle che sono le popolazioni che vengono colpite, quelle che sono gli animali non umani che vengono colpiti da questo estrattivismo, perché non sono dentro il loro computo, perché non sono parte dell'equazione. E allora quello che noi vogliamo andare a far presente, come abbiamo fatto presente al G20 a Venezia, a Napoli e come faremo presente alla Pre-Cop di Milano, è proprio questo. E dire non è possibile andare avanti così. Degli spazi di discussione e decisionalità, di costruzione di agenda politica, come la COP, non sono legittimati e non sono gli spazi adatti, perché la nostra non è solo contrarietà. Noi costruiamo ormai da tre anni, con quest'anno, dei climate camp, proprio per dare un'altra alternativa come è l'oltre economia, perché pensiamo che la costruzione di comunità sia la vera alternativa, la costruzione di comunità resistenti sia veramente quel meccanismo che può sviluppare un meccanismo di cura collettiva in cui trovare le soluzioni e trovare quel cambio radicale per affrontare la questione della giustizia climatica e della crisi climatica. E sicuramente non otto maschi bianchi ingessato dentro una stanza a Glasgow, o piuttosto che a Genova, piuttosto che in altre sale dei bottoni. Quindi la nostra volontà è quella di costruire un climate camp che sia inclusivo, che sia costruito insieme, che sia costruito dal basso, in cui avere momenti di discussione, momenti di discussione almeno su un piano europeo o globale, cercando di dare voce ed ascoltare soprattutto quelle che sono le esperienze di attivisti e attivisti di Argentina, Colombia, Messico, piuttosto che Mozambico o Nigeria. E dall'altra parte cercare di andare a indicare, in forme da decidere assieme, da costruire assieme, una contrarietà a quel meccanismo là, a quella costruzione che continua a ripetersi, quella ritualità in cui il potere si incensa di se stesso e si autolegittima, a prendere decisioni sul mondo. Esatto, che appunto è anche quello che vuole fare qui sul territorio la Giunta Fugatti e in Veneto il governo regionale di Zaia, entrambi stranamente leghisti. Non che gli altri abbiano fatto meglio in passato, però certo c'è un livello di drammaticità che sembra acuirsi via via che avremo bisogno di persone con visioni radicalmente diverse. Spogliandomi un attimo della mia veste di rappresentante del coordinamento e entrando in quella di uno dei delegati per WWF, in particolare della Coppa Giovani, mi veniva in mente una cosa molto interessante riguardo la distanza che dicevi tu prima. Cioè il fatto del momento della pandemia globale in cui ci troviamo ha ancora di più accentuato le criticità di questi eventi di cui parlavi tu prima. Cioè accentrare un numero ristretto, molto selezionato di persone in un certo posto, persone che spesso non hanno la possibilità nemmeno economica e in questo caso col Covid nemmeno pratica di presenziare alle stanze dei bottoni. E questo sta succedendo, adesso c'è una richiesta molto forte anche da parte della Climate Action Network di venire incontro quanto prima a queste dinamiche a due mesi dalla Coppa di Glasgow. Perché appunto paesi come quelli dell'Africa subsahariana stanno faticando a trovare le rappresentanze per partecipare a questi momenti di confronto che appunto dimostrano tutti i loro limiti. Quindi non solo selezioniamo poche persone, quelle poche persone sono i rappresentanti dei paesi che hanno meno bisogno di interventi immediati e radicali e quelli che dovrebbero contemporaneamente fare di più ma che sembra invece abbiano tutta l'intenzione di fare di meno. Tant'è che prima in un'intervista con Francesca citavo un rapporto di un annetto fa di Oxfam che dateci un'occhiata perché è veramente impressionante il 10% della popolazione mondiale è responsabile del 50% delle emissioni quindi capite ovviamente dov'è che sono quelle persone, quel 10% non certo nel Sahara quindi capite bene quanto la cosa è drammaticamente spostata e continua ad ampliarsi questa divergenza purtroppo. e quindi il coordinamento nel suo piccolo cerca di scardinare questa impostazione e questo metodo ma poi guardate che seppur con livelli diversi di coinvolgimento perché c'è da dire che ci sono alcuni servizi provinciali che si occupano di tutela e dell'ambiente che fanno di meglio di quelli che si occupano in questo momento della progettazione e della costruzione della Valdastico però a livelli diversi il dibattito pubblico e l'ascolto dei territori sono fantascienza cioè appunto le persone poi vengono ascoltate in particolare dal mio punto di vista in maniera spesso piuttosto posticcia cioè per giustificare dei processi che comunque si sarebbero realizzati quindi anche secondo me c'è una riflessione molto forte da fare sulla capacità del cittadino di incidere quando gli viene proposto di incanalarsi in meccanismi partecipativi precostituiti che sono anche quelli molto critici se pensate ai questionari che tradizionalmente ci vengono proposti quali sono le tre cose a cui daresti più importanza adesso per la lotta al cambiamento climatico accidenti, tre cose, solo tre molto difficile dire qualcosa di sensato eppure è questo il canale di discussione che ci viene propinato come se potessimo avere delle soluzioni così semplici accidenti se esistessero magari le avremmo già implementate se non fosse che scusate poi forse sto aprendo troppe parentesi per tornare a Eni le soluzioni che vengono proposte sono le magie tecniche la fusione nucleare di recente non so se avete letto per pochi picosecondi un laboratorio sperimentale dell'MIT in collaborazione con l'Eni è riuscito a produrre una quantità consistente da questo meccanismo di fusione che gli scienziati stanno cercando di mettere in piedi da 50 anni tempo di realizzazione per qualcosa di industrialmente scalabile che funzioni altri 50 anni non so se qua tra 50 anni ci sarà l'acqua a un metro oppure un deserto oppure anche le mele della Val di Nonna saranno arrivate fino qua non lo so in quale situazione drammatica vivremo però capite che ci sono anche dei meccanismi come diceva Andrea di greenwashing drammatico che vengono usati a tutti i livelli anche dai più grandi emettitori e dalle aziende che hanno interessi nel settore petrolifero e carbonifero che non hanno nulla a che vedere con delle prospettive reali di cambiamento anche tecnico carbon capture and sequestration energia nucleare fusione nucleare sono tutte cose che vabbè energia nucleare non ne parliamo futuribili che forse avrebbero potuto avere un ruolo se avremmo iniziato a studiarle seriamente 200 anni fa adesso non è più tempo di scherzare con queste robette ecco scusatemi sono un po' aperto perdonate grazie 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 a tutti